la lega della provincia di arezzo verso il cambio al vertice matteo grassi salvo colpi di scena si accinge ad assumere la carica di commissario provinciale il dado è tratto l'ufficialità ci sarà venerdì 29 gennaio quando è in programma la riunione del coordinamento regionale del partito di salvini grassi 34 anni avvocato è molto vicino alla senatrice tiziana nisini che continua a mantenere uno stretto contatto con arezzo e il territorio anche dopo la fine dell'esperienza amministrativa nella giunta ghinelli come assessore a casa e sport matteo grassi prende il posto di nicola mattoni capogruppo in consiglio comunale a cortona uno di quei municipi dove sventola la bandiera della lega con gli alleati di coalizione sarà il commissario regionale mario lolini di grosseto a decretare il passaggio delle consegne per il carroccio a retino una scelta in sintonia con il segretario nazionale matteo salvini la nomina del nuovo commissario è inquadrata nella fase organizzativa della lega successiva al passaggio da lega nord a lega salvini premier con i commissariamenti di tutte le articolazioni del partito in attesa dei congressi rimandati a dopo il covid nessuna dichiarazione ufficiale alla vigilia bocche cucite ma idee chiare in vista delle prossime sfide il coordinamento regionale della lega si occuperà anche di altre province che cambieranno commissario siena e grosseto invece sono già a posto con rispettivamente l'onorevole guglielmo picchi andrea ulmi che è consigliere regionale il nuovo coordinatore lolini è stato nominato a fine dicembre ed ha raccolto il testimone lasciato dal bergamasco daniele belotti l'impresa di conquistare la regione con susanna ceccardi non è riuscita sconfitta da eugenio giani